Ancora sversamenti di gasolio sul rio Ospo, ancora difficoltà a risalire al punto dal quale fuoriescono gli inquinanti che poi si riversano nel corso d'acqua. La segnalazione è arrivata ieri pomeriggio con la mobilitazione della Polizia Locale di Muggia, dell'ARPA regionale, della Guardia Costiera e della Protezione Civile, intervenuti sul posto per contenere la macchia di idrocarburi. Ieri veniva giù in maniera molto più cospicua e questo potrebbe anche essere legato alla conseguenza delle piogge. Mi spiego, si sta vedendo adesso da dove viene questa conduttura perché non è facile trovare l'origine e quindi potrebbe essere anche molto all'interno dei terreni. Noi abbiamo fatto comunque delle ispezioni tutto nella zona circostante, non avendo trovato la fonte, ma potrebbe per ipotesi essere a questo punto anche un serbatoio interrato da chissà quanti anni. Nel momento in cui piove potrebbe essere forato l'acqua tra cima e porta giù anche l'idrocarburi. E le piogge di questi giorni hanno creato un disagio anche in un'altra zona di Muggia, ovvero a Borgo San Cristoforo dove c'è stato uno cedimento del terreno in una zona scoscesa nel quale hanno già in programma dei lavori. Il rischio di una frana è concreto. Il sindaco Polidori ha emanato un'ordinanza per chiudere il transito in quel tratto di strada. Da ieri pomeriggio quella massa di tronchi e terra si è ulteriormente mossa, per cui a maggior ragione valeva la pena, era necessario e doveroso per precauzione chiudere questo tratto di strada. Appena il tempo lo consentirà si riprenderanno i lavori per riconsolidare anche la parte bassa, quella parte alta è messa in sicurezza, quindi diciamo che questa è una notizia positiva. Per cui diciamo che ci vorrà sicuramente qualche settimana di tempo prima di poter pensare di riaprire il tratto di strada.